Come sempre, la prima, se mi permette la licenza, fa molto rumore questo suo silenzio social, se ce lo può spiegare, se se la sente di spiegarlo. Questo è un problema. Uno perché scrivevo un messaggio dopo la partita. Non sono mai stato un grande seguaccio di questi social e la ritrovo una cosa normale. Normale come ci sono entrato, normale come ci sono uscito. La terza sera era a cena a casa, non so neanche di cosa parlavo, parlavo di tutte le altre cose. A un certo punto, se no domani, chiudo i social. E la trovo, cioè per me la trovo una cosa normale. Un essere umano che decide di uscire dai social. Poi, che mi sia venuto a cena e che magari l'idea, l'ispirazione di giocare con due centrocampisti domani mi venga la mattina, questo è un altro discorso. Però è la stessa roba. Quindi a me invece mi ha meravigliato che è stato fatto tutto questo clamore. Mamma mia, chissà cosa c'è dietro. Quindi è una strategia mondiale, una guerra nucleare. Cioè, è uno che è uscito dal social. Tra l'altro, un messaggio dopo ogni partita, senza sui problemi. Poi dopo, se qualcuno ha... Cioè, la sua preoccupazione è che avevo detto meno 20, meno 16, un sacco un tallo indietro, gli dico che oggi mancano dieci giorni alla partita. Senza scriverlo su social, gli dico che oggi mancano dieci giorni alla partita con l'Atletico Madrid. Molto semplice. Le chiedo un'altra risposta umana a questo punto, che si scollega allora a questo punto da questa prima. Ma infatti, scusa se... Che destabilizzano. Perché le cose complicate sembrano quelle più... Invece, la normalità deve essere l'ordine del giorno. Almeno per quanto mi riguarda. Poi dopo. E allora le dico. È normale anche il fatto che, al di là delle sue consente risposte sulla concentrazione, sugli obiettivi da raggiungere, eccetera, che è giusto che sia così, ci mancherebbe altro. E' anche normale chiedersi se sta facendo qualche riflessione sul suo futuro, viste anche le ultime voci che stanno uscendo, la possibilità che lei possa andare all'Inter l'anno prossimo. Io riferisco, io cito e poi le chiedo... Ma è molto semplice. Ho visto il Presidente l'altro giorno, a parte lo vedo quasi sempre quando lui è qui a Torino. E come tutti gli anni, visto che ora siamo in un momento che abbiamo il campionato domani, una bellissima partita, e poi avremo l'Udinese e il ritorno con l'Atletico Madrid, vedremo per parlare di quello come sta andando l'annata, di quello che potrà e dovrà essere il futuro, ma senza nessun problema, anche perché, come ripeto, io sono legato alla Juventus, in quattro anni ci siamo tolti tante soddisfazioni, quest'anno siamo ancora in corsa per il campionato e per la Champions. Dispiace per la Coppa Italia, avevamo 24, una volta può andare anche male, però in Champions siamo ancora lì, può capitare di perdere 2-0 all'andata. è che dispiace per le reazioni che ci sono state, perché si erano create delle aspettative dove la Juventus doveva andare contro l'Atletico Madrid e vincere 3-0. Questo credo sia molto sbagliato, poco da persone intelligenti e diciamo con i piedi attaccati alla realtà. Non scordiamoci che nelle mie 51 partite di Champions con la Juventus, la Juventus ha perso 11 volte, di cui una a Berna dove siamo andati laggiù, che avevamo già passato il turno, una a Sevilla dove avevamo passato il turno, e delle restanti 9 le abbiamo perse, una con il Manchester United in casa, che avete visto, un'altra l'abbiamo persa a Monaco, che poi avevamo pareggiato, quindi non avevamo neanche perso, e tutte le altre partite le abbiamo perse. Barcellona, Real e Atletico. Due col Barcellona, due col Real e due col Atletico. Non è un dato, siccome io non sono amante di dati, però questo è un dato che... E che sono le tre squadre che nel ranking europeo sono sopra la Juventus. Ora chiudiamo questi due argomenti, perché sennò quando arriviamo a lunedì prossimo, di cosa parliamo? Invece parliamo del Napoli, che comunque sta facendo un grandissimo campionato, e domani sera è una bella partita, deve essere una serata di sport in primis, troveremo uno stadio pieno di gente, con grande entusiasmo, che spingerà Napoli a batterci, e noi domani dobbiamo farsi trovare pronti, facendo una bella partita, lucida, tecnica, di intensità, sapendo che a Napoli le partite non finiscono mai. Ciao, Damba, Repubblica. Volevo chiederti, tornando sui social, ma non su quell'argomento lì, quanto comunque ti hanno dato fastidio, ti hanno ferito, ti hanno fatto male, tutte le critiche che ti sono piovute, e che chiaramente da quei canali lì sono state più visibili per la sconfitta di Madrid. Critiche anche sproporzionate, come stavo dicendo. Sì, ma no, ma... Scusa, finisci, se questo ti ha appunto in qualche modo ferito e infastidito, e se ti ha portato a fare delle riflessioni, questo sì, sul futuro, qui ancora su... Riflessioni le faccio sempre, poi nell'immediato futuro e nel futuro lungo. Per quanto riguarda i social, non so perché non li leggo, io i social non li leggo, perché... Poi dopo ho sentito... È normale che ho sentito in G, ho sentito, ma perché? Perché io sono cascato, diciamo, dal pero, perché ho detto, abbiamo giocato con la Teletro Madrid, sì, abbiamo fatto un brutto secondo tempo, poi dopo nel calcio è molto semplice, cioè una palla fa la differenza, l'anno scorso una palla giocata giusta, 10 cm più bassa, Ronaldo colpisce la palla e viene il rigore del Real Madrid, quest'anno a Madrid 10 cm più bassa, la palla di Bernardeschi, Ronaldo manca al 2-1. Dopo è questione semplice nel calcio. Poi che le critiche ci siano è giusto, perché quando si perde giustamente ci devono essere delle critiche, che però sono critiche dettate da un'aspettativa che va al di là di ogni realtà, perché la Champions è una competizione dove può succedere di tutto, perché ripeto, se lunedì l'Atletico Madrid gli si fanno male tre giocatori o c'è un attore con l'influenza a 40 avranno più problemi a giocare la partita. Noi stiamo andando in raggiungi, mancavano sei giocatori. Un giorno, il primo giorno, un giorno prima che dirà fuori perché ha avuto un problema al cuore, Pianici 38 e Feb, Duraxlossa non recupera, squadrato è fuori. Dopo la Champions è così, non è il campionato, perché se quella partita la perdi, però ce n'hai le 12 dopo, le vinci e recuperi i tre punti che hai perso. In Champions non è così, in Champions se perdi, sia bella che è andato. Quindi, le critiche ci stanno, l'accetto, perché è giusto, anzi, se costruttive fanno bene, se però si parte da un presupposto dove si perde di vista la realtà, quello non è più un problema mio, perché io rimango sempre con i piedi ben piantati per terra, perché vincere non è facile, anzi, è una cosa straordinaria e lo dimostra la Juventus in tutti questi anni, nella storia, in questi anni, che vincere i campionati nessuno le regala e non è semplice, perché il Napoli sta facendo un grande campionato, ha fatto tanti punti, ma la Juventus se ne ha fatti molti di più. E in Champions può succedere di tutto, il Real ci ha messo 11 anni per vincere la decima, sì, poi è vero che era 24, ma per 11 anni non ha vinto la Champions e si parla del Real Madrid. Solo per chiudere l'argomento, voglio chiederti proprio a livello personale hai avvertito un po' di ingratitudine nei tuoi confronti. Non, io mi rendo conto, va bene, che magari, io sono così, chi mi vuole sono così, chi mi pilla sono così, lavoro con grande passione e con grande entusiasmo, poi i tifosi che vengono allo stadio mi hanno sempre rispettato e hanno fatto sentire il loro rapporto nei miei confronti in modo straordinario e quindi non posso che ringraziarli. Poi se 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 fine partita appena fischia vado dentro gli spogliatoi o che magari non manifesto con salti, capriole, robe, cose, questo non ci posso fare niente. ma sono l'allenatore e devo dare un esempio perché quando andiamo in panchina siamo degli esempi per tutti e il mio e io mi comporto per come sono io. Poi altri si comportano in un altro modo ma io sono per questo e quindi devo essere accettato per quello che sono. Ripeto, è normale che io mi sono infastidito per come abbiamo perso nel secondo tempo. Questo sì, ma mi sono arrabbiato con me stesso non con gli altri e le critiche fanno fanno parte del gioco quindi non è assolutamente l'importante è che io devo essere lucido in quello che vedo e quello che sarà. Questa è una cosa molto importante. Buongiorno Giovanni Guardalasca e Sport due domande. La prima parlando di domani le chiedo un punto sui possibili recuperi e soprattutto come sta Ronaldo se giocherà sicuramente oppure se hai in mente di farlo riposare visto che ha avuto il problema alla caviglia. No, Ronaldo sta bene si è andato con la scuola e domani giocherà. Per quanto riguarda gli infortunati allora su che dire c'è da fare dovranno fare dei controlli quindi al momento non ci sono date di rientro. Douglas Costa speriamo di recuperarlo con l'Atletico Madrid gli altri sono tutti fuori quelli che siamo siamo il quadrato non rientra perché uno è fuori dalla lista e poi è lontano dal rientro l'unico che possiamo recuperare è Douglas Costa gli altri assolutamente. Invece andando alla partita poco fa ho fatto non so se era una battuta ho detto se mi viene l'ispirazione di giocare con due centrocampisti a Napoli magari lo faccio volevo capire se è un'idea oppure se considerata appunto come gioca il Napoli oppure se lei gioca come come al solito e poi sarà il Napoli da adattarsi no dipende la possibilità di giocare con due due e mezzo chiamiamoli dipende da quanti giocatori offensivi metto davanti da come la partita me la posso immaginare dai cambi che ho in questo momento qui si gioca Di Bale e Bernardeschi insieme a Manzo che c'è Ronaldo in panchina l'unico che abbiamo è Ken altrimenti uno tra Di Bale e Bernardeschi sarà fuori e sarà un cambio importante quindi questi sono quelli che abbiamo e con quelli dobbiamo far bene perché domani io credo che la Juventus farà una grande partita Buongiorno Francesco Pellino agenziaria dopo Madrid ci aveva parlato di quella bottiglia d'acqua e ci aveva detto che la tappa di avvicinamento si preparava riempiendo quella bottiglia d'acqua goccia a goccia quindi le chiedo com'è la bottiglia d'acqua in questo momento e che condizioni è la squadra goccia a goccia no perché se no ce la facciamo a tempo a riempirla la squadra arriverà alla partita con l'atletico in ottime condizioni perché la settimana questa pre-Napoli e quella che sarà dopo Napoli e i giorni prima di Madrid saranno è stata questa settimana e saranno i giorni che verranno che sfrutteremo per migliorare sicuramente a condizione atletica sicuramente le condizioni di Monucci e Chiellini miglioreranno sicuramente perché avranno solo una partita nelle gambe Dugas Costa speriamo di recuperarlo Pianic verrà avanti in condizione come tutta la squadra verrà avanti in condizione poi se riusciremo a passare o no questo non lo so anche lì sicuramente saremo pronti per la partita Luca Bianchi in gazzetta mister due cose marzo è il periodo in cui ogni anno ci sono voci su Massimiliano Allegri ogni anno sembra che se ne debba andare o che ci sia questa possibilità poi in qualche modo lei rimane quest'anno rispetto diciamo agli ultimi due lei si sente nella stessa situazione o c'è qualcosa di diverso in positivo o in negativo per quella che è la sua volontà le sue sensazioni ci hanno dato per morte prima di essere eliminati in Champions e di conseguenza sono venuti fuori prima le voci che a Lega va via perché per una serie di motivi che sono stati tirati fuori che non sono assolutamente veri io mi dovrò vedere col Presidente quando il Presidente vorrà e parleremo come tutti gli anni e in quel momento lì poi decideremo se andare avanti o se ognuno va per la sua strada è molto semplice come tutti gli anni ho detto che quando dopo che ho parlato col Presidente deciderò e deciderà decideremo va bene quindi deciderò deciderà decideremo cosa fare l'anno prossimo senza nessun problema però in questo momento bisogna si concentrare su quello che dobbiamo fare ora abbiamo una bellissima partita domani sera da giocare un campionato ancora da vincere perché mancano ancora 7-8 vittorie da fare anche se domani è uno spartiacomo importante e poi penseremo a questa bellissima partita di martedì 12 dove ci sarà bisogno di tutti di uno stadio che per 95 minuti dovrà comunque spingere la squadra a fare un'impresa questa è la cosa che è più importante uno stadio intero a spingere la squadra no? gente che viene allo stadio a guardare la partita e l'altra cosa è proprio su questo domani può essere in qualche modo utile a preparare la partita dell'atletico ad esempio sono due squadre che giocano con lo stesso sistema di gioco proverà qualcosa lì lei ha fatto intendere prima possibilità di di Bale Bernardeschi insieme con Manzucic e Ronaldo magari l'utilizzo dei terzini in un certo modo vedendo quello che potrà fare anche se Alessandro non ci sarà al ritorno oppure sono due partite completamente diverse no sono due partite completamente diverse domani è una partita che vale molto per lo scudetto perché in caso di risultato positivo le possibilità di vittoria nostra aumenterebbero tanto e poi è una grande sfida perché loro comunque l'idea di batterci è talmente grande per dimostrare che sono più bravi di noi ce l'hanno dentro è una settimana forse più che preparano questa partita noi dal punto di vista nostro domani in Serie A bisogna fare una partita di grande livello perché è una serata importante per il calcio italiano dove si affrontano le due squadre che negli ultimi anni hanno lottato lo scudetto facendo delle partite più tattiche domani credo che non sarà una partita bloccata perché il Napoli gioca in modo diverso gioca molto più diretto troveremo qualche spazio in più quindi sarà una partita diversa magari dalle ultime Buongiorno Romero agressico il punto con le chiedo mister se il fatto che Mandzukic nel nuovo anno non sia ancora riuscito a segnare se sia un discorso legato più a una condizione precaria ancora a post infortunio o se è semplicemente un momento così grazie è un momento così come tutte le punte c'è stato le prime cinque partite di campionato ci si preoccupava perché Ronaldo non segnasse poi ha cominciato a segnare ne ha fatti tanti Di Bala domenica scorsa a Bologna è ritornato al gol Mandzukic ha già fatto diversi gol quindi su quello sono sereno bisogna trovare un po' più di gol la parte dei centrocampisti non è semplice è difficile la domenica devi andare in campo e vincere domenica siamo andati a Bologna abbiamo trovato delle difficoltà poi oggi nel ritorno ci sono ancora più difficoltà perché le squadre non c'è più tempo da perdere perché le squadre si andano a salvare bisogna facciare dei punti se no vanno di sotto le squadre che devono andare in Europa League bisogna facciare dei punti se no rimangano fuori quelle delle Champions League fino a tre domeniche fa era una lotta per il quarto posto e ora invece sembra che la lotta sia per il terzo e per il quarto perché comunque devi dare continuità fino a che la matematica non ti dà la certezza devi stare lì a lavorare a sudare ogni giorno il campionato la vittoria dei campionati passano nella quotidianità la Champions è un'altra roba questa è la differenza gli anni scorsi insomma nel processo di costruzione della squadra Marzio è sempre arrivato con una identità precisa adesso anche a causa di alcuni infortuni questo non sembra così in campo può essere un valore aggiunto per i prossimi mesi o può essere un limite? No è un valore aggiunto in questo in questo momento abbiamo devo sfruttare i giocatori al meglio quelli che ho a disposizione e quelli che ho a disposizione da qui alla fine l'unico a parte che dire che speriamo di averlo nel più breve tempo possibile uno come primo come uomo perché vuol dire che sta bene può rientrare a giocare a caccia e poi come cacciatore è Dugla Scossa quadrato è molto difficile quindi non è che c'è da fare tanti cambiamenti quelli sono i giocatori e con quelli bisogna andare avanti ma tutto sta per arrivare in fondo nei migliori modi quello che abbiamo detto indipendentemente dalle caratteristiche dei giocatori quello che uno ha dentro la voglia l'entusiasmo perché dopo Madrid ripeto la partita di Bologna è stata uno strascico perché? perché c'era talmente tante aspettative che anche i giocatori tutti ne abbiamo un po' risentito e questo invece per un ambiente di alto livello come la Juventus non deve succedere anche perché non siamo via fuori c'è da giocare la partita di ritorno c'è un'andata e c'è un ritorno Buongiorno Sergio Baldini tutto sport ecco a proposito dello strascico di Bologna la partita di domani contro la squadra che è stata la vostra grande rivale di questi anni cosa può darvi magari una vittoria una bella prestazione per togliervi di dosso quegli strascichi e a livello di classifica quanto scudetto giocate domani? domani e domani ci giochiamo due terzi di scudetto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti